E bentornati a Dimmi Quando, io sono nel piccolo angolo di Prussia perché è il momento dell'intervallo e oggi dedichiamo l'intervallo a un gesto che compiamo tutti, il selfie ma non vedremo persone comuni, anzi vedremo persone blasonate, anzi teste coronate perché sì, le persone di sangue blu fanno, oltre a quello che non ricorderemo anche questo che li accomuna le persone normali, i comuni mortali i selfie, vediamo quindi questo intervallo che abbiamo chiamato Royal Selfie e loro vengono bene così, comunque così è, va benissimo e passiamo adesso dai nobili che abbiamo appena visto a gente molto meno nobile i ragazzi di Fuori Frigo, il salto mi rendo conto è notevole ma noi non abbiamo paura di niente, neanche voi lo so per cui ci guardiamo Fuori Frigo, noi torniamo subito dopo con la seconda parte di Dimmi Quando e l'intervista e come sempre a questo punto non mi resta che augurarvi buona televisione a tutti e a tutti Grazie a tutti.